In un mondo iperconnesso il costo da sostenere per utilizzare il proprio computer o il tablet o gli smartphone è tema di un certo peso. Argomento che è stato messo sotto la lente all'auditorium del Policampus di Sondrio durante la conferenza dedicata a Software Libero. Libertà digitali, il titolo della giornata di approfondimento organizzata dalla ITIS Mattei con il sostegno del Comune di Sondrio e dell'Associazione Alpincena. In cattedra gli esperti dell'Associazione Libre Italia, attiva a livello nazionale per la diffusione del software libero. Libre Italia ha già ottenuto il notevole risultato di far iniziare la migrazione del Ministero della Difesa da Office a Libre Office con risparmio economico per lo Stato a regime fra i 25 e i 30 milioni di euro. Dunque con open source si può risparmiare molto? Sicuramente l'open source permette di avere due tipologie di risparmio. Un risparmio visibile che è dato dal fatto che non ci sono costi di licenze. Le licenze dei software open source sono licenze libere e quindi di riflesso gratuite. Si paga naturalmente la competenza, quindi si paga la formazione, si paga la configurazione, non si paga la licenza e questo è un primo risparmio facile da individuare. Poi esistono dei risparmi che sono dei risparmi molto meno facili da individuare, sono risparmi legati alla sicurezza e all'interoperabilità. Il fatto di scambiare documenti in modo trasparente in genere risparmia la fatica di riaprire il documento, inviarlo la seconda volta perché la prima non si apriva bene e così via. E' un risparmio in termini di sicurezza. Il software open source non nasconde mai nulla al suo interno proprio perché chi lo sviluppa non solo non ha questa intenzione ma non ne ha l'interesse. Proprio perché essendo un lavoro soprattutto di tipo volontario, nessun volontario farebbe qualcosa che lo fa lavorare di più e quindi cerca di fare qualcosa che funzioni bene e che funzioni nel modo migliore senza un suo intervento successivo. E' stato inoltre presentato il progetto Linux va a scuola che dimostra come si possono utilizzare tecnologie a costo zero nelle scuole. Questa proposta la lanciate nel mondo della scuola per quale motivo? Sicuramente perché la scuola ha una valenza fondamentale nella società civile. Creare consapevolezza negli studenti in un mondo appunto dove loro trovano aziende che vorrebbero ricondurli all'interno di una proposta commerciale. Chiaramente è importante avere classi di giovani che sono consapevoli nell'uso degli strumenti digitali rappresenta secondo me, ma non solo secondo me, un grande vantaggio per tutto il sistema paese. Grazie. Grazie. Grazie.